Voi, esseri temeriali, ascoltate la storia dell'ignoto che qui giace senza il segno di una labide. Da ragazzo, temerario e sventato, mentre giravo per il bosco imbracciando un fucile, tiraio ad un palco appollaiato sulla cima di un albero secco. Eeeh! Cadde con un rantolo ai miei piedi, l'ara spezzata, poi lo presi e lo misi in gabbia, dove visse molti giorni racchiando con rabbia contro di me, mentre gli offrivo il cibo. Da allora io cerco l'anima di quel falco nei reni dell'Ade per offrirgli l'amicizia di uno che la vita ha ferito e messo in gabbia.